Musica Buongiorno, bentornati al TG2000. Coronavirus, andiamo subito ai titoli. Coronavirus in Italia, contagi in calo ma aumentano i ricoveri. Dubbi sulla riapertura delle scuole a settembre. Al via il meeting di comunione e liberazione a Rimini ed è atteso Mario Draghi, è già arrivato. E' morto Cesare Romiti, presidente ed amministratore delegato della Fiat di Agnelli, aveva 97 anni. E allora andiamo subito a Rimini per l'apertura del meeting di comunione e liberazione. Oggi è il giorno dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Ci colleghiamo in diretta con Luciano Piscaglia. Buongiorno dal Palla Congressi di Rimini, dove si è appena concluso l'incontro inaugurale di questa speciale edizione 2020 del meeting per l'amicizia tra i popoli. Un'edizione speciale perché è fruibile interamente online e solo alcuni incontri prevedono la presenza del pubblico nel rigido rispetto delle norme anti-Covid. E alla presenza di un pubblico composto di poche centinaia di persone, poco fa Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, ha inaugurato la manifestazione soffermandosi dopo l'introduzione del presidente del meeting Bernard Scholz sul titolo Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime, ma soprattutto sul sottotitolo del meeting per ricostruire insieme in questo tempo drammaticamente segnato dalla pandemia. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento. Dobbiamo accettare l'inevitabilità del cambiamento con realismo e almeno finché non sarà trovato un rimedio dobbiamo adattare i nostri comportamenti e le nostre politiche. Ma non dobbiamo rinnegare i nostri principi. Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall'incertezza invece che esser noi a controllarla. Perderemo la strada. Un'attenzione particolare, secondo Mario Draghi, deve essere riservata ai giovani perché si corre il rischio, ha detto, di distruggere il capitale umano del paese. Ascoltiamo ancora un passaggio del suo intervento. I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più. I sussidi finiranno. E se non si è fatto niente, resterà la mancanza di una qualificazione professionale che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri. L'incontro inaugurale del meeting si è concluso pochi minuti fa. Ora la manifestazione entra nel vivo con convegni, mostre e spettacoli. Tutto, come detto, rigorosamente online. Al termine di questa edizione del telegiornale, oggi e per tutta la settimana, andrà in onda uno speciale approfondimento dedicato ai temi e ai volti del meeting. Per ora, da Rimini è tutto. Restituisco la linea allo studio. E come avete sentito, nei titoli si è spento a 97 anni Cesare Romiti, braccio destro di Gianni Agnelli. Con Pierluigi Vitori percorriamo le tappe della vita dello storico manager della Fiat, intervistato qualche anno fa da TV2000. Io sono stato un manager, credo, spero di essere considerato giusto, molto severo. Ai posteri l'ardua sentenza, ma certamente Cesare Romiti è stato una figura centrale nella storia industriale dell'ultimo quarto del secolo scorso. Dirigente in snia viscosa e all'Italia, il suo nome è legato indissolubilmente alla Fiat, che diresse con pugno fermo dal 1974 al 1998. I tempi miei era tale la battaglia, tale la difficoltà a condurre le aziende. In realtà il sindacato era fortissimo, per cui non capitavano cose che si facevano per piacere. La crisi dell'auto per lo shock petrolifero, i 14.000 licenziamenti del 1980, la marcia dei quadri aziendali contro gli scioperi operai. Cesare Romiti riuscì a dominare stagioni calde, facendo assumere alla Fiat una dimensione internazionale. Non scampò nemmeno lui al setaggio di Tangentopoli, da cui ne uscì con una condanna definitiva per frode fiscale e finanziamento illecito ai partiti. L'ultima parte della sua vita, conclusasi oggi ai 97 anni, è stata segnata dalla presidenza del gruppo Corriere della Sera Prima e della Fondazione Italia Cina Poi. E da una pagina forse poco nota, il suo sostegno ai terremotati del comune di Accumoli, vicino ad Amatrice. Io ho voluto conoscere, vedere i fatti della vita, le persone, chi erano, come erano, parlarci, andare sul posto, vedere. E poi ho scelto, naturalmente io ho possibilità, naturalmente limitate, ma ho scelto 20 famiglie e ho deciso praticamente di adottarle e di stare con loro. Quindi 20 famiglie che hanno voluto superare i momenti difficili del terremoto, perché sono intervenuto subito io con le mie erogazioni. E siamo al tema coronavirus in calo in Italia, contagi e tamponi dopo la stretta del governo sulla Movida, ancora troppi senza mascherina. Letizia Davoli. Dopo la chiusura delle discoteche per limitare i contagi, scoppia e si potrebbe dire finalmente la paura tra i più giovani, quelli che sono passati dalla Movida alle feste, nel totale disprezzo delle regole del vivere comune e della salute pubblica. E il caso degli otto romani contagiati di una festa a Porto Rotondo, DJ incluso, o delle migliaia di giovani, molti provenienti dall'estero, che hanno partecipato ad un rave non autorizzato nel Cremonese. E mentre i gestori delle discoteche annunciano ricorsi al TAR contro la disposizione del governo, scoppiano le polemiche sull'obbligo delle mascherine. Credo che sia utile, sia utile, sia dovuto anche per ricordarci che in realtà non è ancora finita. Tutto sommato ci trova d'accordo, non vediamo il problema, ci chiediamo perché solo dopo le sei e non prima. Un senso ce l'ha, però sarà terribilmente difficile. Se è utile per fermare un possibile contagio da Covid, questo possiamo selezionare in futuro. E scoppia anche il caso dei lavoratori stagionali in arrivo in Italia per la vendemmia e la raccolta delle mele. La quarantena è indiscriminata, rischia di compromettere l'annata, da col diretti la richiesta di tamponi immediati per permettere di iniziare subito il lavoro e l'alleggerimento della burocrazia per assumere anche per settore di ammortizzatori sociali, pensionati e studenti. Ancora nella totale incertezza anche il mondo della scuola, dei presi di un appello al Comitato Tecnico Scientifico che si riunisce oggi per regole certe e condivise. Al momento, infatti, non è stata definita alcuna procedura in caso di contagi. A meno di un mese dalla riapertura, la scuola è ancora abbandonata a se stessa. Famiglie e docenti rischiano di dover gestire una situazione emergenziale anche nel prossimo inverno, nonostante sette mesi di tempo per garantire l'avvio del regolare anno scolastico. La cultura in questo paese conta meno del divertimento del popolo della notte. E con quasi 5 milioni e mezzo di casi positivi sono sempre gli Stati Uniti a guidare la triste classifica dei contagi da Covid-19. Seguono Brasile ed India, ma anche in Europa la situazione non è sotto controllo. In Francia, con i nuovi casi, crescono polemiche e paura di una seconda ondata. In Nuova Zelanda, a causa della pandemia, sono state rinviate di quattro settimane le elezioni previste per il 19 settembre. 775 mila le vittime del virus nel mondo. E cambiamo argomento, andiamo all'estero. Mentre l'Italia, attenta a strade diverse per la gestione del fenomeno migratorio, in Grecia un migliaio di richiedenti e asilo sarebbero stati respinti con alcune operazioni notturne. Marco Burini. Spinti dalla fame, dalla paura, ma soprattutto dalla speranza di dare un futuro migliore ai propri figli, i migranti continuano a attraversare il Mediterraneo. E lì nel mezzo trovano Lampedusa, la porta d'Europa. Ieri ne sono arrivati altri 350, divisi in piccole imbarcazioni. Nel centro di raccolta ce ne sono 850. Molti sono già stati trasferiti, oggi ne verranno spostati altri, visto che l'isola ne può gestire al massimo 200. Sono quasi tutti tunisini, come succede ormai da diversi mesi. Ecco perché Di Maio e la Morgese ieri sono stati a Tunisi. Il ministro degli esteri ha dichiarato che chi arriva in Italia in maniera irregolare verrà rimpatriato, mentre verrà intensificata la lotta ai trafficanti di esseri umani. Con l'aiuto fondamentale dell'Europa, il commissario per l'allargamento e la politica di vicinato, Vareli, annuncia 10 milioni di euro per la gestione delle frontiere. Poca roba, ma si può fare anche peggio. Come il governo greco, che secondo un'accurata inchiesta del New York Times, negli ultimi mesi ha abbandonato in mare, fuori dalle proprie acque territoriali, più di mille migranti. Espulsioni illegali, secondo il diritto internazionale. Ma il primo ministro Mitsotakis, di destra, aveva fatto capire subito, quando era andato al potere un anno fa, che la musica sarebbe cambiata. E così molti profughi sbarcati a Lesbo e nelle altre isole greche sono stati rimessi sui gommoni e lasciati andare alla deriva. Poi sono stati soccorsi, tutti si spera, dalla Guardia Costiera della Turchia, altro paese che usa le persone migranti come arma di ricatto. Il ritorno delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, assieme alle incertezze per l'economia che derivano dalla pandemia, stanno spingendo sui mercati telematici il prezzo dell'oro, tornato a quota 2.000 dollari l'oncia. In forte rialzo anche argento e ferro. Sul fronte dei cambi l'euro ha continuato ad apprezzarsi sul dollaro. Ora un euro vale poco più di 1,19 dollari. Negli Stati Uniti, Michelle Obama rompe l'atmosfera ovattata della convention democratica di Milwaukee e lancia un messaggio chiaro contro il presidente in carica, Trump, Marco Bergamaschi. Al via ieri a Milwaukee, Wisconsin, la convention dei democratici statunitensi che il prossimo giovedì incornerà il tandem Joe Biden e Kamala Harris come candidati del partito per la Casa Bianca, democratici che per sostenere l'ex vicepresidente Dem nella campagna elettorale verso le elezioni hanno schierato sia Bernie Sanders sia Michelle Obama. Donald Trump è il presidente sbagliato per il nostro paese ed è chiaramente in una situazione più grande di lui, ha detto la stessa Michelle Obama nel suo intervento alla convention che si svolge in modo virtuale a causa della pandemia. L'economia americana allo sbanda ha aggiunto la causa del virus che questo presidente ha minimizzato troppo a lungo. Conosco Joe Biden, ha detto poi la ex first lady, è un uomo profondamente perbene, che sa ascoltare, che dirà la verità e che credere nella scienza e farà piani intelligenti. Intanto Donald Trump continua il suo tour elettorale dopo aver toccato proprio il Wisconsin, attaccando gli stessi candidati Dem nello stato dove si tiene la loro convention e affermando che le prossime elezioni saranno le più pericolose di sempre, il presidente sarà in Arizona e Pennsylvania. L'Air Force One con a bordo il presidente Trump è stato sfiorato da un piccolo drone, mentre domenica effettuava la manovra di avvicinamento alla pista della base Andrew nei pressi di Washington. lo hanno riferito diverse persone a bordo dell'aereo. L'avvistamento dell'oggetto è avvenuto poco prima che il velivolo presidenziale toccasse terra. Rientriamo in Italia, ma ci spostiamo in Sicilia per la cronaca smentita all'ipotesi che Viviana Parise, la DJ torinese, ma residente in provincia di Messina, trovata morta nei boschi di Caronia, si sia suicidata dopo la morte del figlio in un incidente stradale. Ieri il super testimone, un imprenditore del Nord in quei giorni in vacanza con la famiglia in Sicilia, ha detto che il piccolo Gioele era vivo, in braccio alla madre, con gli occhi aperti e non presentava ferite. Dopo 15 giorni ancora si cerca il bimbo con l'uso di droni e cani molecolari. Ed ora in Medio Oriente per raccontarvi una storia che arriva dalla striscia di Gaza. Barbara Masulli ci parla di uno stratagemma per vivere un po' di normalità. Sentiamo di cosa si tratta. Un piatto di frutta servito al tavolo, con vista sul mare. Non siamo alle Maldive, questo non è l'oceano indiano, ma il Mediterraneo. Loro sono palestinesi, confinati nella striscia di Gaza. L'aria è governata dall'organizzazione terroristica di Hamas, ma di fatto è controllata da Israele, che ne regola lo spazio aereo, marittimo e terrestre. Lasciare la striscia è molto complicato, bisogna avere permessi speciali e attraversare numerosi checkpoint. La concentrazione abitativa è alta, su una superficie di circa 350 km quadrati vivono 2 milioni di persone e molti non hanno mai superato il confine. Ecco perché negli ultimi anni si stanno moltiplicando locali come il Maldives Gaza Café, con nomi di posti da sogno, irraggiungibili per i palestinesi che almeno viaggiano con la fantasia. Nel bar, tre piani e 1200 coperti vengono proposti succhi tropicali e cocktail esotici per regalare a un popolo abituato a convivere con esplosioni e conflitti qualche momento di svago. Nonostante le nostre difficili condizioni di vita, è bello avere un posto così, che ricorda le Maldive, ci fa stare bene, spiega Rola al-Haga. Lui è Ahmad al-Bahia, uno dei proprietari del caffè. Ci siamo detti, visto che questa gente non può andare alle Maldive, portiamo le Maldive da loro. Il nostro sogno è diventato realtà e la gente di Gaza può gustarsi un po' di Maldive che normalmente vede su YouTube. Il calcio inter-Shakhtar Donetsk è finita ieri 5-0. Le doppiette di Lautaro e Lukaku più D'Ambrosio vanno portato i nerazzurri in finale di Europa League contro il Siviglia. Netta la vittoria della squadra di Conte che ora ha la possibilità di chiudere la stagione con un trofeo. Venerdì la sfida con gli spagnoli che hanno già vinto la Coppa 5 volte. E con questo è veramente tutto. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con il TG2000 torna alle 18.30. Buona giornata. Grazie per aver guardato il TG2000